È il futuro il campo d'azione del PD e il Partito Democratico in questi cinque mesi ne ha vissuto di tutti i colori. Abbiamo assistito a polemiche, a litigi, a scissioni, a fuoriuscite, a scontri. Per cinque mesi abbiamo dato l'impressione di essere una comunità di donne e uomini incapaci soltanto di litigare, tradendo così lo straordinario messaggio che la nostra gente e il nostro popolo da anni ci dà e che si è incaricato di restituirci forte e chiaro sia con il voto nei circoli che con il voto delle primarie. Non ha vinto Matteo Renzi, non ha vinto Maurizio Martina, non ha vinto Andrea Orlando, non ha vinto Michele Emiliano. Ha vinto la comunità di donne e uomini che crede che la politica sia una cosa seria. Ha vinto il PD, il PD che non litiga, che non si scinde, che quando c'è da discutere discute, ma il PD che non può accettare di essere un luogo nel quale tutti sparano contro il quartier generale pensando di avere visibilità. La gente da noi non vuole le polemiche, vuole le proposte, vuole le idee, vuole i sogni, vuole che siamo più capaci di prima di coinvolgere gli altri.